Bella a tutti ragazzi, siamo i The Friends E oggi siamo qui Il Survival Game Dei minigiochi, sì per staccare un po' dal solito survival e così via Allora premesso che Nicolo sentirete laggantissimo perché purtroppo già la Survival Game in sé Già mi fa laggare la mia super connessione, cosa che non è vero Poi immaginate TeamSpeak Ma stiamo insieme? Non lo so ma mi sa che abbiamo fatto quelli solo No perché c'è gente CarCreeper guarda lì No Carlo De Creeper non lo devi cagare Oh Creeper guarda lì Ah sì sì Ok siamo insieme, Diamond e Diamond Io sono Diamond E io? Io pure tu Tu sei insieme Quindi raga questo video probabilmente lo vedrete un po' laggante perché è un po' la connessione Un po' sul survival game Un po' 1.8.8 Poi la versione e quindi gang-banana Ok comunque sta per iniziare ancora 30 secondi Ok io ho scelto già Kit Knight Sì sì anche io l'ho giustamente Che non ne ho altri Ah andiamo 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 a spiare Andiamo 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 a spiare Nella casetta Nella casetta Casetta piccola così Allora premessa facciamo cagare Sì parecchio anche Probabilmente Parecchio Ok sta per iniziare E raga faremo anche un altro gioco forse Dipende un po' da quanto due ha questo Se tipo moriamo Se tipo moriamo subito Ok io direi che prendiamo le ceste Dove sei? Ah ciao E scappiamo dietro No fra scappiamo direttamente non prendiamo niente No le ceste le devi prendere Io le prendo Io ci provo Io vado a una cesta e scapo Non la stessa cesta possibilmente E io avevo preso il Bene Ok scappa 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 Mi vedi? Ok fra corriamo Io percibo Ma sei dietro di me? Hai una spada? Sì sì ho ma solo una ne ho Ok minaccia di morte con lui Aspetta e non ci arriverò mai a lui Ok adesso posso chiudere questo Picchia Picchia Bestia Io non ho armatura o solo Vado pugni Allontanati no bestia Ok uno l'ho ucciso Non aveva niente Eh aspetta c'è quest'altra Ah io resto qui Eh questa mia Io scappo scappa 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 Ma io se la prendi con me Se la prendi con me Eh son morto vaffan cuore Ma se la prendi con me non va Lei io son debole Recupera fame Ok ti sto guardando Nicol La registrazione va avanti Hai preso la mia roba almeno No c'era lei Eh allora cuore Eh son morto niente Ho visto Vabbè niente ci abbiamo provato Stoppiamo e ci vediamo un attimo Ok stoppiamo Intanto vedete la lobby E ci vediamo dopo Bella Eccoci raga Allora Abbiamo deciso di fare Un altro survival game Dopo il fail di prima Perché il fail da noi non vanno giù Sì ma tanto faileremo di nuovo Quindi il problema non sussiste Però spera di durare Vabbè dato che prima Siamo durati tipo Mezzo minuto Un minuto Quassimo due Quando siamo in team Usa siamo sempre vicini Se è fianco di qua Se è fianco di qua Io provo a prenderla E scappiamo dietro di noi Ok Ah dietro di te Dietro di me Dietro di me Io provo a fottermi con la ceste Ok ok via 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 Dietro di me Dietro di me Ma che Fra me hai fottuto te la mia roba Non lo so Mi sa che abbiamo puntato la stessa ceste Però muoviti Ma corri Uno dietro di te E l'ho visto Non mi fa correre Vabbè non mi ha cagato Ma c'è E scappa scappa Fregatene scappa Che quei questi sono troppo potenti Dovresti avere un altro elmo Ce l'ho io però Prima dobbiamo isolarci Ma c'è un minuto idiota Ma dove? Mi sta picchiando Mi sta picchiando E non posso aiutarti Non mi caga Toh prendi questa Prendi questa Te l'ho lanciato di là Ti ho dato due mele Ma dice buono o sta tranquillo Ehi bestia Io ce l'ho l'arma Io E' attento che forse quelli lì Ok allontanamoci un attimo Vieni spostando Ah ma tu è la bestia Dove sei? Mi piace Andiamo No di là Ok di qua Incredibile il parkour Attenti Occhio Occhio Fra arriva dietro Dietro due Due No non ce la facciamo Non ce la facciamo Come sei? Fra so sopra le scale Corri Ok E io ti vedo abbastanza Baggato Oh lo dovevo mangiare Buttiamoci Ma sei scemo Allora Ah già che non si fa Ah si cazzo che se si prende danno di caduta Oh cazzo Siamo circondati E scappa 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 per il grano Non so mi butti in acqua E però dobbiamo arrivare di là Più velocemente possibile Se no ci fotte Vio 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 Che finchè non siamo messi benino Ok Adesso Qui c'è un cadavro Che qui c'era Gino Ah qui c'è dove Aspetta aspetta Qui posso provare a prendere alcune chest Perché c'era una che dove Che devi far parkour qua Me la ricordo la mappa Eh io sto prendendo le chest Sono rinaste Io copro la situazione qua Fra muoviti Eh ma non è facile Eh io ho del grano Sì ce l'ho fatta ce l'ho fatta Ma non c'è un cazzo Ho la TNT però Ho nient'altro Ora corrio dei pantaloncini per te Eh dammi Ok Ok ce li ho Doviamo uscire Siamo per Non so Vieto Alle spalle No scappa scappa Che questo non ce la facciamo È full ferro Via corri Sto ammazzando Eh corri Corri Merda Ce l'ha con me Sono baggato Aiutami sono baggato Ma io lo vedo che corre dietro di me Aspetta Ok corri Corri Sono nella caverna Eh me ne sono accorto con disgusto Ok via 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 Ci abbiamo un po' alle spalle No no non guardarti Ancora tu corre Merda Siamo stilusi C'è l'acqua Ah mi sto ammazzando Eh ho visto Ho visto Dannazione Io corro Perché se no mi prende E vieni Vieni a guardarmi C'è c'è il pulsantino Noi siamo la squadra creeper Non riesco Mi vedi? No sta raggando amico Aspetta Allora 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 ti vedo Dimmi come è la situazione intorno a me Buona 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 C'è uno dietro Ah ma non l'ho visto È sempre il solito È quello che ha ammazzato Nico Eh ma adesso ammazzerà anche me Adesso anche una squadra Oh vai verso il fine del mondo Fra Gira sinistra E riaccentrati perché c'è anche altra gente Oh bestia c'è uno sotto di me Eh frasi nella merda Quattro Ah no è morto uno No però Allora È ancora dietro di me No Hai un margine di vantaggio Però non c'è più Quindi io cerco le ceste No perché se vado allo spon No ce n'è uno ce n'è uno lì C'è un full farro C'è un full farro Dal forte arriva uno Due frasi stanno arrivando Sto scappando non ti preoccupare Eh ma qui c'è l'acqua Porca puttana Non ti hanno cagato forse Sono caduto in acqua C'è una cesta Eh non c'è Non è vuota È vuota Ah lì c'è il mio cadavere Ma dai ma non trovo cesta Aspetta Si dovrebbero riempire un momento Eh ma ne devo Ok questa qui sgamo Spai mi metto in shift Fra quanto? Quanto? Eh 2,1 Ah 2,1 minuti Devo stare qua fermo No Poi è la situazione però Tranquillo E allora mi metto in shift dentro Se vedi qualcuno che viene Verso la casa Diggalo Dopo però Eh? Stoppa mentre aspettiamo Eh no perché sennò poi Vabbè fammi correre Perché sennò poi ci Eh fra Alla tua destra c'è il mio cadavere Non mi interessa Bravissimo ok Ma la mappa è piccola No fra si sta disegnando Sennò sempre di più Pondovello Aspetta vado a fare un giro Allo spona Vedere se c'è qualcuno Fra Eh ma sicuro Poi arrivano Poi poi sempre Non c'è nessuno Manca ancora un minuto E' troppo presto Guarda dove ho imboscato quella cesta Pondovello No ma con un minuto Scevite Eh per ora sto qua Sto riraggiungendo Ah Eh Mi senti? Nico? Ah si ti sento Oh alle Oh alle Sto aspettando e speriamo che esca qualcosa di male Arriva uno Arriva uno Oh merda ciao Io non voglio più aspettare Con la canna pesca Con la canna No anche la spada Ah eccolo Ah ma è la spada di pietra Corri Frank Corri Frank Dimmi se allo spawn c'è qualcuno che ci sta andando Non lo so io sono indietro No comunque è l'ultima No c'è gente fra Stanno combattendo Via via Corri Frank Corri Frank Io sto correndo C'è l'ancora dietro C'è l'ancora dietro Sì È grande Ma fra se lo riesci a raggirare fregandolo E come cazzo dovrei raggirarlo Solo che Solo che qui si è in trappola Wow ti aveva visto Non ti aveva visto Eh mi ha ucciso Ok vabbè Niente raga ci vediamo dopo Ok raga Bella Ok raga Eccoci tornati con un altro minigioco Visto che su Weaver Game sono andati male Cambiamo diciamo genere In pratica Siamo qui Siamo qui User ever view a channel Weaver Spero che fra si è disconnesso No si no Si è connesso un altro tizio Che poi se ne è guardato Ok siamo qui In the quick on the qualcosa Sì Io fra abbiamo un kit Brawler Non è in squadra Però io e fra abbiamo deciso Che non bisogna uccidersi In gioco è semplice Bisogna sparare con l'arco e frecce Che ti dà una freccia ogni volta Che c'è di uno La freccia appena colpisce uno è morto Con la spada Con la spada no Con la spada no Ho ucciso uno però Ho ucciso me Ho ucciso me Ho ucciso me Ho ucciso me Niko c6 Io sono qui al campionato Però adesso mi scampano Perché stanno andando ma Ok io ucciso me Ho ucciso me Ho fatto due kill A me è passata una freccia A fil di me No non ero io Perché io l'ho preso Il povero bimbo Ok io sono a due kill Ok io ci sono almeno Sono a tre Io sono a quattro Ecco poi sono morto Io sono a quattro kill Stanno andando benissimo Ho visto Ok quello lì va a camperare Io lo prendo alle spalle Ok io ho fatto Sono a cinque Anch'io a cinque Sei Ok sono a sei Sette Sette grande fra Venga stavo facendo le stragi Sì ma mi stanno uccidendo Io lo vorrei dire Eh spoon kill Vaffanculo Io sono a sette Forza otto Se sto qui è un bastardo Va di arco e frecce Quando stavamo facendo un combattimento All'ultimo sangue con la spada Oh bestia Bestia questo qua Eh non l'ho visto Vaffanculo Mi sa che arrivi se Che mi ha detto All'altro All'altro Io sono otto Eh io no Quattacquinci Mi sa che tu Tu ci farà seriamente male Ma è tu Ma è questo Ma lascia Ma come cazzo fa Ma lascia fra Eh oh è magari forte Guarda che Ma non è vero Non è forte E' sculato No io Infatti mi sono suicidato fra Buttandomi giù al precipizio Eh io sono ancora sette Non riesco a uccidere più nessuno Mi sento 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 Oh mamma rona Stavo per fare No 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 Novo record di nico Io frasano a 9 Novo record Io sono arrivato a 10 Per il mio record è 10 Ah da me Secondo Sono arrivato secondo E io sono con 7 kill Dovrei essere terzo Però Ah diagna Ci sono ancora quelli con 8 Quindi no Wow Un ragazzo Mini game Diere che è andato benissimo Ok Vabbiamo anche per me Cazzo vuoi Sono Siamo Tre minuti Ok Tu dove io direi di stoppare E quindi ragazzi Se il vi è piaciuto Commentate Iscrivetevi E noi ci vediamo la prossima volta Con un nuovissimo video Bella raga